Allora Giovanna, da quanto tempo manchi? D'agosto. Oggi che giorno è? Dovrebbe essere. Aspetta, vediamo, vediamo, così facciamo vedere che giorno è oggi. 27 gennaio 2023. Sì, però tu manchi da agosto. Qua se mi vergogno, va. Non è vero, non è vero. Hai fatto qualcosa per pensare a questo colore? Hai sempre seguito i miei consigli. Questo è un colore che noi riprendiamo da gennaio. Brava. Quindi io sono controvincente, ma ho il proprio vantaggio. Quindi lunga durata, ottimo servizio. Assolutamente. Ok, oggi faremo un cambiamento, giusto? Taglieremo. Taglieremo. E mi devo affidare veramente con grande fiducia. Con grande fiducia, grazie. Come sempre. Dopo vi faremo vedere come la trasformeremo. Uh!